Il mercato di Lega Pro sta entrando nel vivo, il Foggia di Canonico coltiva un sogno, i rossonieri vorrebbero ritentare una nuova Zemanlandia, anche se il nome del boemo Zeman sta dividendo al momento la piazza, così come quello del DS Peppino Pavone. Il Bari del neotecnico Mignani potrebbe perdere Matteo Ciofani, il difensore classe 1988 potrebbe tornare in Serie B. Sulle sue tracce il Frosinone, società con cui il calciatore ha giocato e ha ottenuto una doppia promozione dalla Lega Pro all'Ao. Il centrale Francesco Cosenza che ha appena festeggiato la vittoria in finale playoff con l'Alessandria invece è ad un passo dallo scatenato Francavilla. Il Catanzaro ha messo gli occhi su Michele Bano, calciatore di proprietà del Verona che quest'anno ha giocato prima a Mantua e poi a Perugia. Il Palermo che ha salutato Lucca e Saraniti guarda il campionato cadetto per rinforzare il fronte offensivo. La dirigenza Rosa Nero ha messo nel mirino Ettore Gliozzi di proprietà del Monza. Il difensore Denis Donucci non resta dal Catania, il calciatore non è stato riscattato e farà rientro alla Juve Stabia.